La Basilica di Clusone e il suo complesso si può visitare virtualmente anche in internet? Sì, da alcuni mesi ormai è online, è un sito internet www.artesacraclusone.it che ci racconta un po' il complesso monumentale della Basilica, il suo museo e le altre chiese della parrocchia di Clusone. È un sito che nasce visto il crescente afflusso di visitatori al museo e a tutto il complesso che nel 2014 hanno superato le 12.000 unità, quindi sempre maggiori sono le richieste per visitare questo luogo e quella del sito è una delle risposte che possono aiutare i visitatori, i turisti e non solo a avere informazioni circa gli orari, circa le modalità di visita, le possibilità e le attività che ruotano attorno a questo complesso. Ecco, ci sono diverse sezioni nel sito? Sì, il sito è molto semplice, volutamente molto semplice, non ha grosse pretese se non quella di dare e delle informazioni utili. Principalmente le due sezioni sono la prima puramente informativa con gli orari, le modalità di visita. Questa prima sezione racconta anche le attività che vengono svolte dal museo e dal complesso, le mostre che sono in corso e quelle che sono già passate. Una seconda sezione invece riguarda il complesso vero e proprio. La basilica, l'oratorio di disciplina e la danza macabra, la chiesa di San Luigi e il museo. Qui vengono descritti questi monumenti, sono così dei piccoli assaggi, non sono esaustivi, ma vogliono servire per divulgare e per invogliare il visitatore e il turista a venire a visitarci. Quindi la basilica di Clusone con questo sito è in internet ma è anche in rete, in rete con le altre basiliche del territorio della Valle Seriana. Sì, un'altra sezione è proprio dedicata al progetto La Valle delle Basiliche. Si tratta di un progetto nato in sinergia con la Diocesi di Bergamo, con Turismo Bergamo e con le altre due parrocchie che hanno una basilica in Valle Seriana. La basilica di Alzano Lombardo, la basilica di Gandino e appunto la nostra di Clusone. È uno dei tre itinerari della fede che sono promossi sul sito Visit Lombardi per la provincia di Bergamo. Ecco, tutto ciò possiamo anche immaginare che sia stato realizzato in vista di Expo, perché alla fine è un itinerario che si snoda lungo la valle che un visitatore potrebbe anche fare. Sicuramente, infatti ci si aspetta anche che per questo grande evento anche l'afflusso di turisti possa essere facilitato da questi percorsi. E per quanto riguarda il museo della basilica ci sono novità in vista? Sì, è terminata la mostra sulla natività, è in cantiere un'altra grande mostra che aprirebbe attenti il prossimo 25 aprile e sempre in vista di Expo. La mostra è ancora in cantiere, quindi avremo modo di parlarne poi più avanti.